ciao ragazzi e bentornati sul canale io sono gerus e voi siete nel mio piccolo spazio sul web per parlare di passioni oggi ci soffermeremo su un film come potete vedere un po anche dalla maglietta che ho avuto l'occasione di vedere in anteprima stampa e sono qui per darvi la mia opinione e farci una bella chiacchiera al riguardo stiamo parlando di kinds of kindness l'ultimo lavoro di yorgos lantimos film targato search light picture presentato in anteprima mondiale alla settantasettesima edizione del festival di canna film tra l'altro importante perché stiamo parlando di 165 minuti quindi un film con uno sviluppo lungo e su cui arriveremo nei dettagli proprio a breve come sarà strutturato questo video innanzitutto dopo questa introduzione partiremo con quella che è un po l'analisi rapida di quello che è il film della sua struttura delle sensazioni che mi ha dato per darvi un'idea di quello che vi dovete aspettare da questo prodotto e poi ci concederemo un segmentino finale in cui vi darò alcuni input dal punto di vista analitico dal punto di vista delle tematiche che sono chiaramente l'elemento centrale in realtà di questo film come molti altri film del regista prima parte tutta totalmente no spoiler con giusto qualche riferimento di trama ma davvero due parole e poi ci sposteremo con un approfondimento un po più corposo e vi dico già da subito che quando il film arriverà nelle sale quindi dal 6 giugno e dopo due tre visioni perché servono per arrivare a entrare in profondità in tutti i possibili significati sicuramente ci arriverà un mega speciale di analisi su tutti i significati le simbologie le tematiche che troviamo all'interno perché ce ne è tantissimi ovviamente dopo una singola visione in lingua originale per giunta totalmente priva di sottotitoli non posso essere certo di ricordare tutti gli elementi di aver colto tutti gli elementi e quindi su quello ci torneremo ma qualcosa già sedimentato dopo una notte passata insonne proprio perché gli ingranaggi nella testa facevano troppo rumore devo necessariamente parlarvene e ovviamente prima di partire un grandissimo grazie a tutto il team che mi ha permesso di poter vedere questo film in anteprima stampa che mi ha anche fatto dono di una maglietta io sono un fan delle magliette tematiche quindi grazie ma finalmente com'è questo kinds of kindness allora partiamo con il dire che davanti a voi vi troverete un film antologico surreale bizzarro a suo modo cupo quasi una favola oscura diretta come dicevo da iorgos lantimos che torna a lavorare col suo cosceneggiatore di altri film come the lobster dog toot eftimis filippo spero di averlo pronunciato bene un altro di quei nomi decisamente complessi cosa vi dovete aspettare appunto abbiamo ovviamente il ritorno a quel lantimos più dei suoi primi film una pellicola che è fondamentalmente totalmente riconoscibile come appartenente alla poetica del regista diviso in tre storie principali distinte ma tematicamente collegate e non solo tematicamente ognuna esplora e molteplici temi in realtà legati al controllo alla sottomissione alla ricerca di validazione che riponiamo spesso nell'altro e quindi in una qualche misura della l'amore sotto la peggior lente possibile in un'altalena ancora una volta che va a toccare la tematica del libero arbitrio che si incontra con le regole sociali imposte ed autoimposte tante volte di una lotta quasi interiore tra la nostra volontà la voglia di poter scegliere il nostro percorso la nostra vita e forse un po anche la nostra incapacità di farlo davvero la nostra in qualche modo magari innata volontà di invece legarci più delle dinamiche sociali di gruppo di branco altro elemento che accomuna le tre storie poi l'uso degli attori su differenti ruoli quindi avremo gli stessi attori che impersoneranno personaggi più o meno differenti in funzione della storia ma che contribuiranno a ricreare un'atmosfera che ricollega tutti e tre i capitoli del racconto le tre storie saranno la morte di rmf una persona identificata solo da una sigla che sarà sempre identificata da una sigla in tutti e tre i racconti in cui vediamo un uomo che in una qualche misura robert vive la sua vita privo della scelta che cerca di prendere il controllo e si scontra però forse con la difficoltà di saper prendere il controllo e in una qualche misura il comfort di tornare o cercare di tornare ad avere invece qualcuno che ti dica cosa fare perché forse è l'approccio più facile alla vita adulta poi abbiamo rmf vola in cui vediamo un poliziotto preoccupato dalla scomparsa della moglie che ha l'occasione invece di ritrovarla dopo che era stata dispersa in mare ma che al suo ritorno sembra avere qualcosa che non lo convince e quindi si instaura in lui il dubbio che non sia propriamente sua moglie ultimo racconto rmf mangia un sandwich in cui vediamo una donna e interpretata a trovare una persona specifica con una speciale abilità per conto di una setta di un culto di cui fa parte che però all'interno del film vediamo venire rimbalzata costantemente tra eventi che riguardano il culto stesso appunto già citato e il suo passato quindi la sua nuova vita e la sua vecchia vita o dei rigurgiti delle contaminazioni che arrivano proprio dal suo passato partiamo con il dire che dal punto di vista della resa tecnica questo film come tanti film dei grandi registi è ineccepibile tutti i suoi elementi vanno perfettamente al loro posto degli attori perfettamente a fuoco su tutti abbiamo un jesse supplements che è incredibile ormai lo sappiamo lo abbiamo visto interpretare ogni tipo di ruolo tra l'altro è perfetto per opere di l'antimos e possiamo dire quasi lo stesso e stilando quasi una sorta di classifica interna più per l'importanza che il film dà ai vari ruoli degli attori ecco che per la loro bravura per la stone e per defo dal punto di vista di tutti gli altri attori di contorno tutti fanno il loro lavoro la regia la fotografia il sonoro il montaggio ogni elemento riesce a consegnarci un film che è tecnicamente ineccepibile noi e se può di niente semplicemente la scelta però più interessante è proprio quella della struttura della fattura nella scrittura e nella realizzazione di questo film perché la struttura antologica in tre atti fa sì che si crei qualcosa di peculiare che riesce anche a essere sfruttato in modo interessante e intelligente all'interno del film provate a immaginare vedere un film in atti strutturato in elementi narrativi ben precisi con però al suo interno delle matrici comuni a tutti gli atti e che quindi ritornano ciclicamente fa sì che si crei al contempo sia un percepibilissimo filo conduttore sia tematico che visivo e quindi che gli elementi al suo interno vengano collocati in un universo si potrebbe dire e al contempo la divisione in tre atti fa sì che si venga come spettatori ciclicamente stimolati con elementi nuovi incuriositi da cambi di narrazione da cambi di contesto e di racconto però al contempo questa struttura fa sì che si lavori anche un po per sommazione in una sorta quasi di domino tematico in cui è impossibile che una storia non finisca nella successiva e quelle due non finiscano nell'ultima e l'ultima in qualche modo non riesca a fare il giro e a collegarsi alla prima facendoci uscire dalla sala con un trittico che funziona sia come elementi singoli che come un unicum autopotenziante e tutto questo vale ancora di più se andiamo a considerare opere così bizzarre e zeppe di stimoli e significati possibili come quelle che l'antimos e il suo cosceneggiatore sanno scrivere a brillare davvero poi sono proprio questi elementi quelli tematici quelli del racconto delle riflessioni che racconto ci stimola elementi che vengono poi ulteriormente potenziati all'interno del film proprio da tutti quei singoli dettagli tecnici che abbiamo nominato e che fanno poi la vera pasta la vera matrice del film un film quindi così ben confezionato e pensato in modo intelligente da riuscire come dicevo dopo l'uscita della sala a continuare a farci riflettere e almeno personalmente questi sono i film su cui mi posso chiudere in senso assoluto quei puzzle logici quasi in cui per me almeno è inevitabile prendermi un po di tempo e cercare di sviscerarli proprio come se si stesse parlando di un enigma che voglio risolvere ci troviamo quindi davanti a un film che fa tornare il regista alle sue precedenti opere a piene mani se avete odiato il linguaggio del regista il suo modo di fare cinema o se lo avete amato ecco non vi potete aspettare da un film del genere un trattamento diverso da quello che avete avuto nel passato ed è poi un film particolare poiché è un film impegnativo sì per chi vuole sviscerarlo soprattutto per chi vuole arrivare in profondità davvero ma è al contempo anche abbastanza comprensibile nel semplice svolgersi dei suoi eventi e quindi nei suoi elementi puramente narrativi interni a ogni storia gli eventi che vediamo non sono difficili da capire ma se siete il tipo giusto può essere estremamente gratificante entrare invece in profondità se siete però il tipo sbagliato questo può renderlo anche un film estremamente frustrante per voi per quanto mi riguarda stiamo parlando di una pellicola audace coraggiosa che continua l'esplorazione dell'animo umano e delle tematiche tanto care al regista ancora una volta attraverso una lente oscura e assurda che ci offre una visione in questo caso tripartita e quindi però sfaccettata di uno stesso tema principale detto questo non vi dirò altro io è un film che ho apprezzato se lo apprezzerete o meno ecco questo sarà a voi e al tipo di film che andate a ricercare vi saluto tutti quelli che non avete visto il film o tutti quelli che non vogliono avere spoiler di sorta se invece lo spoiler non è un problema perché può essere un aiuto nella visione nella prima comprensione di un'opera se mi reputate anche in grado di offrirvi questo servizio se invece siete tornati qui dopo la visione perché volete qualche elemento in più ecco entriamo un po su quelli che sono i temi principali che io ho identificato ma in realtà ce ne è tantissimi in cui ci soffermerò solo davvero sui temi principali e su quegli elementi che secondo me a livello di fattura del film hanno contribuito a potenziare un determinato messaggio e lavorano davvero di concerto ecco con quel piccolo inserto tematico affrontiamo la cosa dividendola ancora una volta in storie la prima storia vede quindi il nostro robert che è un impiegato sottomesso completamente dominato da un capo che in realtà vediamo essere perfettamente in grado di dominare sembrerebbe qualunque persona che gli ruota attorno la vita di robert è meticolosamente organizzata e controllata da qualcun altro sia che si parli ecco nelle sue attività quotidiane sia che si parli del matrimonio della vita delle decisioni importanti e allora quindi la narrazione attraverso quello che vediamo ci spinge ad esplorare i temi più estremi di questa di questo controllo ecco e ci fa vedere fin dove robert è disposto a spingersi per compiacere il suo capo per avere il suo amore per citare il film fino a che punto di rottura morale psicologico ci si può spingere e soprattutto superato quel punto di rottura siamo in grado davvero di essere indipendenti siamo in grado davvero di riprenderci la vita in mano e questo può attivare mille riflessioni che siano legate a quella fase naturale di chiusura di un rapporto magari tossico in cui tendiamo a rifare gli stessi sbagli in cui tendiamo a pensare di non essere in grado di gestire la vita in modo diverso e quindi magari tornare all'ovile o reiterare appunto sbagli già fatti in passato ma ovviamente va proprio anche a riflettere su come ci poniamo nei confronti di una società che ci dà delle direttive che ci dice cosa sarai da grande o come dovresti comportarti da grande e a questo lo capite da voi potete collegare 10 milioni di temi la seconda storia rmf vola vede questa volta daniel un poliziotto che si trova in difficoltà nell'affrontare quello che potrebbe essere un lutto o il non sapere che fine ha fatto lits sua moglie scomparsa in oceano a un certo punto in realtà viene ritrovata ricompare ma da lì parte una dinamica differente una paranoia di daniel che mette in luce anche la sua necessità di controllo sulla situazione convinto che la persona che si trova accanto non è chi dice di essere quindi abbiamo ancora una volta il tema del rapporto che viene declinato dal punto di vista più familiare questa volta a differenza del primo blocco che era più in ambito lavorativo con il tema della fiducia dell'identità all'interno di una relazione propria e con delle dinamiche che ci fanno vedere anche un po come una persona possa esercitare un controllo anche tossico ci fa fare un viaggio un po più anche nella follia in una qualche misura nell'illusione nell'auto illusione ed è anche almeno per quanto mi riguarda la storia che al momento mi mette più in difficoltà nell'inserirla nel trittico stesso e su cui sicuramente ho bisogno di rimettermi a guardarla verificare bene la fotografia se mi può dare degli indizi narrativi per una direzione del racconto un'altra ma ancora una volta una storia affascinante interessante la terza storia invece rmf mangia un sandwich sposta maggiormente l'attenzione su emily interpretata da emma stone che diventa invece il cardine principale la prima storia si concentrava più sulla figura maschile la seconda sulla coppia in realtà e la terza sulla donna ancora una volta tutti elementi che vanno a confluire in un ipotetico concetto di relazione in questo caso abbiamo emily che lascia la sua famiglia per unirsi e seguire un culto lo scopriamo un po dopo in cui omi defo questo santone richiede una purezza e un'obbedienza assoluta il film ci fa vedere rituali bizzarri di questo culto ma che in una qualche misura sembrano avere una coerenza interna il tema della purezza dell'acqua e quindi il sudore e quindi le lacrime ci sono molti elementi che sono anche affascinanti a livello di culto proprio di come è stato costruito e pensato lei deve cercare quella che è una figura messianica quasi qualcuno che evidentemente è importante per il culto e che forse magari rappresenterà un punto di svolta un nuovo inizio per l'umanità una scena che mette anche più in luce il concetto della fede cieca del controllo che la fede può avere su di noi ma anche dell'assurdità di tutto quello che vediamo che però viene mostrato con una coerenza e una credibilità interna da darci gli strumenti pure per mettere in dubbio che questa fede non possa anche avere in una qualche misura senso perché ancora una volta il regista è un regista che lavora sui nostri dubbi non ci vuole mai fornire delle certezze per fortuna dal punto di vista mio a livello cerebrale quantomeno è uno stimolo quindi tutto il racconto principale ci parla di ambivalenze di rapporti declinandoli in contesti diversi ma la matrice è sempre il rapporto come ci rapportiamo alle cose e come viviamo l'abbandono il distacco da queste cose i motivi ricorrenti sono prevalentemente quelli da una parte abbiamo quindi il concetto di controllo e sottomissione tutti e tre i personaggi e tutti e tre i racconti ci raffigurano proprio questo sono persone che esercitano un controllo che subiscono un controllo in varie forme declinato in secondo gerarchie differenti che possano essere aziendali matrimoniali fanatismo religioso e tutto questo secondo me è fortemente veicolato da una regia e da una fotografia quindi dagli elementi più visivi del film che sono perfettamente in grado di inquadrare e di dare importanza a quegli elementi simbolici che possono sottolineare o un rapporto magari in cui vediamo una figura a mezzo busto e una figura un po più bassa che ci richiama chiaramente a una dinamica di controllo quasi sessuale in realtà o magari un primo piano su una mano è una mano amorevole che si pone sopra la stessa ma che ancora una volta indica un controllo un prendersi cura un kindness sì ma declinato in chiave anche un po più inquietante e il film è zeppo di questi elementi visivi altro elemento centrale e questo è molto caro in realtà al regista ancora una volta è l'elemento di assurdo di satira di critica di conseguenza al nostro approccio quindi una visione surreale anche umoristica in modo scuro tante volte per probabilmente andare a criticare quelle che sono delle norme sociali delle strutture di potere a cui scegliamo di sottostare perché ci danno una falsa sicurezza un falso senso di comfort perché ci danno un controllo su una vita che è caotica e dal mio punto di vista l'elemento che più sottolinea appunto questa assurdità è proprio l'uso del grottesco l'uso del bizzarro delle bizzarrie di un approccio stilistico atto a sottolineare a scrivere contesti e personaggi che sono proprio da what the fuck ok ultimo blocco diciamo su cui mi voglio soffermare è invece quello dell'isolamento dell'alienazione malgrado si stia parlando di rapporti ancora una volta i personaggi in tutte queste storie sono spesso isolati fisicamente o emotivamente in determinati momenti del racconto o in tutto il racconto stesso e questo un po ci richiama a un contesto in cui la vita moderna e le relazioni che paradossalmente potrebbero essere salvifiche e liberarci renderci più a nostro agio con noi stessi finiscono per essere delle gabbie dei sistemi che ci bloccano ovviamente all'interno della narrazione del film ragazzi tutto questo secondo me è estremamente potenziato dall'uso del sonoro che si fa dissonante che alle volte irrompe alle volte invece si distacca completamente lasciandoci solo a vedere magari qualcuno chiuso in un determinato bozzolo che sia emotivo o che sia realistico per non fare spoiler ancora una volta questi ecco sono gli input che finora vi voglio lanciare sono tutti gli elementi tematici che io posso sentirmi abbastanza confident di dire esistono all'interno del film non sono sovrastrutture o over thinking dopo una prima visione dopo aver letto un po di approfondimento di quello che pensano gli autori gli attori che hanno vissuto questa esperienza e che hanno contribuito a consegnarcela come detto abbiamo appena toccato la punta dell'iceberg anche per questo film ho intenzione di fare un approfondimento importante come quello che abbiamo fatto per the lighthouse come quello che abbiamo fatto recentemente per the infinity pool ma ancora per the empty man film ricchi di dettagli di sfaccettature che non posso fare a meno di voler prendere quel groviglio liberarlo e parlarvene quindi ne ritorneremo a parlare sicuramente però devo studiare per bene c'è poco da fare dopo una singola visione non posso arrivare a quel livello di dettaglio e nulla ragazzi datemi i vostri feedback voglio sapere la vostra lanciate qualunque input anzi magari potrà essere un punto di partenza e di approfondimento per le prossime visioni anche per me detto questo grazie per l'attenzione come sempre condivisioni like iscrizioni le solide cose ma soprattutto commenti 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 lo sapete siamo qui per condividere passioni perché sono l'unica cosa che ci tiene in vita ciao belli e dalla prossima ciao 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 ciao